Labbra è il più esemplificativo secondo me Ma ragazzi Ma Dani non tocca Ma Guardami Bocca Tocca Porta tocca Sì Portiglia tocca Sì Vitrina Vitrina No Quindi Yusef Biscotto non tocca Biscotto non tocca Labbra Tocca Bocca Tocca Aria Non tocca Aria Ma Non sono le dubbi Ma sedia tocca Non tocca Sedia Anche tu le porta tocca Labbra Porta tocca Dessi Bloody Mary tocca Bloody Mary Eh Una cosa del tuo schiaffo perché Perché guarda Schiaffo Non tocca Perché porta tocca Perché porta Aspetta di pensare logicamente No Guardami Labbra Labbra Ma Ada Ada Non tocca Ada Non tocca Maria Tocca Anche Mario Ma lui Non tocca Guarda 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 Labbra Labbra Qualche Buttage Quello Ti ammazza Pensi che tocca Non tocca Non tocca Faffanculo Non tocca Porta Tocca Mouse Tocca Sì E stereo Non tocca No No